Come va? Tutto a posto? Vi vedo presi bene, quindi siamo felici di questo. Direi di andare avanti nel nostro racconto. Arriviamo a un pezzo che tratta di un argomento anche abbastanza consueto ormai, che ormai è anche diventato un non argomento. Parla della differenza di genere e del sentirsi diverso da quelli che si è fondamentalmente. L'intelligenza ci spinge a pensare che ognuno è libero di pensare e di essere quello che vuole e quello che sente di essere fondamentalmente, al di là del proprio sesso, al di là di tutto quello che lo condiziona. La libertà alla fine è anche questo. L'importante è che sia un gesto sempre non violento. E noi abbiamo pensato di raccontare questo sentimento, questa sensazione, parlando di un bellissimo pomeriggio di diversità, che in realtà è un pomeriggio veramente molto normale e comune a tutti quanti noi. Si intitola Eva, Eva. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.